C'è una prima verità nel processo sull'omicidio di Salvatore Cairo scomparso il 6 maggio del 2000 ed è una verità di natura scientifica che emerge dalla perizia sul DNA disposta dalla corte d'assise. I frammenti di ossa emersi da un pozzo profondo 15 metri alla periferia di Brindisi appartengono all'imprenditore brindisino attivo nel settore del commercio delle pentole e degli articoli per la casa. La relazione conclusiva della genetista Giacoma Mondelli e del medico legale Liliana Innamorato è stata depositata in vista dell'udienza che si svolgerà il prossimo 16 aprile. I periti nominati dalla corte hanno confrontato il profilo del DNA del fratello e della sorella di Cairo con quello ricavato da una trentina di frammenti, tra i quali una teca cranica e il pezzo di un piede. I resti sono stati trovati il 20 dicembre scorso su indicazione di Enrico Morleo sotto processo con l'accusa di essere stato l'esecutore materiale dell'omicidio il cui mandante per la DDA sarebbe stato il fratello Cosimo. La direzione distrettuale antimafia di Lecce ha contestato le aggravanti della premeditazione e del metodo mafioso. Secondo l'accusa, Cairo, così come Sergio Spada, l'altro imprenditore attivo nel settore dei casalinghi trovato cadavere nella sua auto con un foro di pistola alla nuca l'11 novembre 2001, sarebbero stati uccisi perché diventati scomodi per le attività di cui avrebbe voluto occuparsi Cosimo Morleo. Determinanti le dichiarazioni rese da Massimiliano Morleo, fratello degli imputati, che si sono sempre professati innocenti. Enrico Morleo ha precisato di aver trovato il cadavere di Cairo all'interno della legnaia in cui lavorava all'epoca, di averlo fatto a pezzi usando una motosega a scoppio e di aver dato fuoco ai resti poi gettati in un pozzo e ha detto di averlo fatto perché impreda il panico. Per riscontrare quelle dichiarazioni la Corte ha disposto la perizia chiedendo anche di accertare se le ossa presentino tracce di combustione e sezionamento con la motosega.